Oggi prepariamo del buon baccalà, un musillo di baccalà. Cosa ci serve? Baccalà, cipolla a pezzi, mettiamo la cipolla nell'olio, mettiamo dell'aio in polvere, dei pomodori e versiamo tutto insieme. Io non amo friggere. Mettiamo sul fuoco e lasciamo cuocere un pochino, circa 10 minuti. Poi aggiungiamo del baccalà nel sugo, aggiungiamo le olive nere e del prezzemolo tritato. Lasciamo cuocere all'incirca 20 minuti. Ecco, adesso lasciamo assorbire l'acqua che il baccalà rilascia nel sugo, aumentando un po' con la fiamma. Ed ecco il nostro baccalà. Che profumo, mamma mia! Un profumo e una squisitezza unica. Provate!